Stato, sono stato fatto a giudizio e questa è stata realizzata per i banchi, d'ozzi come il mondo che probabilmente è stato finito di dire che il mondo è stato fatto, è stato fatto a tutti e non sono particolare, ma di rinforzare e di essere molto solo in atto. Sino accor dilemmo, ci siamo fatto un'esercizio che ha già avuto, di un suono di un ruolo, di un po' e di portato sempre in giudizio. Grazie per la visione!